Ciao ragazzi, benvenuti a un nuovo video. Uniscite a noi in questo breve tour di Málaga. Una città perfetta per una vacanza di mare e cultura. Ragazzi, mentre passeggiavamo ha tirato la nostra attenzione questa struttura moderna a forma di cubo di vetro. È il Centro Pompidou di Málaga. È una sede del Centro Nazionale di Arte e Cultura Georges Pompidou di Francia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.